La Corte Sportiva d'Appello della Feder Rugby ha accolto il ricorso dell'Aquila Rugby Club. Ai neroverdi vengono restituiti quattro punti in classifica. La penalizzazione era stata combinata la prima giornata di campionato, quando Mercier ha schierato uno straniero di troppo. Dopo due mesi, gli organi di giustizia federale convalidano così la scelta del tecnico francese e della società aquilana, revocando la penalità e omologando la vittoria del Viadana, che in quel caso si impose per 47-7. La notizia arriva in un momento particolare nella giornata di campionato di oggi. L'Aquila infatti affronterà il CTAV Lions Piacenza, che attualmente occupa il penultimo posto in classifica con due punti. L'Aquila ultima a zero punti e non più a meno quattro, scenderà così in campo particolarmente galvanizzata, in caso di vittoria, tutt'altro che improbabile, abbandonerebbe il fanalino di coda. Il Piacenza arriva al fattore orfano del suo uomo migliore, Troy Nathan, a cui era affidato il gioco dei bianconeri e al suo posto Giulio Forte, tre quarti canadese che la scorsa stagione ha giocato in nero-verde. L'Aquila, da canto suo, recupera qualche infortunato e cerca con determinazione il bottino pieno. Una vittoria oggi potrebbe rappresentare una vera svolta nel campionato dei nero-verdi.